Ci siamo, gli europei stanno per partire, in tanti si chiedono se Conte abbia convocato i giocatori giusti, chi potrebbe vincere l'Euro 2016, tra i favoriti abbiamo il Belgio, ma anche l'Italia stessa, così come ha detto Buffon, per lui, proprio il fatto che non sia favorita lo carica ancora di più. Sentiamo cosa ne pensano i cagliaritani a riguardo. Come andrà l'Italia europea? Ma forse il girone lo superiamo. Perché si qualificano le quattro migliori terze? Appunto, secondo me sì, poi chissà, vedremo. Si è soddisfatto di queste convocazioni, chi avresti chiamato? Giorginio lo avrei chiamato sicuramente, al 100%, però ognuno fa la propria scelta, lui è il mister, decide lui, tanto alla fine sta passando al Chelsea a prendere 20 milioni di Euro a stagione, quindi siamo a posto. Comunque di fatto a centrocampo manca, lì è rimasto un buco, ma ci sono i fortunati Verratti e Marchisio che avrebbero potuto giocare in quel ruolo di regista a basso, rimaneva o Valdifiori o Giorginio? Sicuramente era meglio Giorginio di Valdifiori, avendo l'esperienza, un pochettino più di lui, però vabbè comunque ha deciso di convoccare Tiago Motta che ha esperienza e niente. Ma questo è il numero 10 di Tiago Motta? Non saprei cosa dirti se ce l'ha metto, comunque evidentemente anche De Rossi ha detto in conferenza stampa che se lo meritava e lì è un'annata a lui. Chi vincerà gli europei? Così una domanda brucia a pelo. La Germania è forte, presumo la Germania comunque. Non siete contenti? Non io conto il nostro capitano! Ma chi avrebbe dovuto convocare Conte, secondo voi? Avrebbe dovuto convocare Balotelli? Certo. Adesso torna a Liverpool. Ebbè è forte. Ma abbiamo già Pelé, abbiamo Zazza. È scarso Pelé. Secondo me sì. Chi avresti convocato tu oltre a Balotelli? Non lo so. Dopo Guardo. Giovinco? Sì. Non è stato convocato, lo so. Vabbè, ormai abbiamo Pelé. Ma siamo contenti invece del centrocampo? Ad esempio qualcuno ha detto manca Bonaventura. No, Bonaventura no. Però... L'avresti voluto? No. Che avresti voluto? Vabbè, si sono fatti male Marchisio, l'avrei voluto e Verratti. Gli altri vanno bene. Giorginio no? Boh, non lo so. Non lo so. E quindi chi mettiamo lì? De Rossi? Sì. De Rossi. Sturaro. Non riesco a... Gli avrebbe chiamato lei? Ma non sono di Cagliari. La nazionale italiana la seguirà? No. Gli avresti chiamato? Sicuramente Pavoletti come attaccante. Non era ancora arrivato il nome di Pavoletti, esatto. Al posto di chi a questo punto te lo chiedo? Al posto di... Secondo me è immobile. L'Italia potrà andare avanti in questi europei? Eh, spero di sì. Dovrebbe avere delle buone probabilità. Ma io ritengo che si sia fatto il massimo che si poteva fare a questo punto. Sì, il massimo che si poteva fare. Sei d'accordo? Anche io e penso vincerà la Russia. La Russia addirittura. Tu che pensi che possa vincere? Esprimere un pronostico in questo momento dell'europeo, cioè agli inizi penso che sia difficile. Tuttavia ci sono diverse compagini che possono ambire al raggiungimento del titolo del campionato europeo. Chi avreste chiamato tra i convocati di Conte? Che non è stato chiamato da Conte stesso. Ma tutti i giocatori italiani sono comunque in un periodo di forma molto elevata, perciò penso che le scelte del mister siano state le migliori che si potessero fare. Allora, speriamo che l'Italia si piazzi bene e che possa arrivare perlomeno in finale e poi vediamo. L'importante è tifare, comunque vada. A questo punto speriamo che non ricapiti ciò che è capitato agli scorsi europei quando l'Italia ha affrontato la Spagna in finale. Ma ho visto com'è finita. Mi ha preso quattro papine. Sì, noi infatti speriamo bene per questa edizione. Il gruppo è molto coeso, non ci sono dei protagonisti o dei giocatori di altissimo livello, però il gruppo è quello che fa la differenza. E poi dietro abbiamo la difesa della Juventus, solida, ben conosciuta a tutti. Campioni del mondo ricorda molto il 2006. Va detto che comunque Conte, anche lui un ex allenatore della Juventus così come era Lippi, in analogie possono sembrare anche tante. Conte così come Lippi non ha convocato Balotelli, visto che prima abbiamo parlato di Balotelli, e poi tiene tantissimo al gruppo. Quindi speriamo che ci faccia la stessa sorpresa che ci fece nel lontano 2006 Lippi.